Idee per un trekking, piani di artavaggio. A partenza da Volasio si percorrerà il sentiero per circa mille metri di dislivello su dieci chilometri. Il sentiero è comunque semplice, potete portare il vostro animale di compagnia o perché no, utilizzare la vostra bicicletta. Se avete dei rappoggini sono vivamente consigliati nel periodo invernale, in quanto il ghiaccio potrebbe essere molto pericoloso. Se siete stanchi, niente paura, potete scegliere di fermarvi in qualche ristorante appena prima del rifugio. Diversamente, godetevi un pizzocco con una vista panoramica. Finito di pranzare e dopo aver preso un po' di sole potete ridiscendere ripercorrendo la stessa strada o qualche piccola variante. Se ti è piaciuta l'idea, seguimi! Però è più consigliere.